Dopo l'inizio di campionato con lo Spezia, per Tommaso Pobega arrivano altre soddisfazioni. Quest'oggi il giocatore ha infatti messo a segno una doppietta in Under 21, portando l'Italia al successo 2-1 contro l'Islanda, in una gara valida per le qualificazioni agli europei 2021. E proprio tra le fila dell'Islanda c'era invece l'altro spezzino Gudjonsen, che attualmente è in prestito all'Odense, club della Danimarca. Una bella notizia anche per i tifosi aquilotti, che vedono i giocatori dello Spezia diventare protagonisti anche nelle nazionali. Cambiando argomento, questa sera alle 21.30 torna l'appuntamento con voglia di Spezia. Si parlerà di stadio, ospita in studio il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini. In esclusiva vi mostreremo le prime immagini dello studio di fattibilità del nuovo stadio da 16.000 posti. Si parlerà inoltre dell'ipotesi di vendita a privati da parte del Comune, oltre alle ultime notizie sull'avanzamento lavori in vista del debutto delle aquile nella loro casa, ma da inquilini di Serie A, fissato il 5 dicembre prossimo contro la Lazio.